Come ti senti? Ti senti bene? Quanta pasta al giorno stai mangiando adesso? Cento grammi? Reghe? Avvio? Qualcuno faccio? Secondo me è bruciato anche qualche muscolo, va bene, però no? Senti più forte. Ma cosa ne pensi te se magari proviamo con 80 grammi? Ce la possiamo fare. Anche perché con quella roba che ti diamo non avrai mica tanto bisogno di mangiare. Quella roba ti tiene suo. Ce la facciamo? Dai, allora facciamolo. Bravo, verè che sei un campione, l'ho sempre saputo. Campione del mondo, nell'universo.